La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito il decreto di confisca definitiva di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore di Enna, la cui elevata pericolosità sociale è dimostrata da diversi precedenti penali. La confisca segue il provvedimento di sequestro eseguito nel 2019 su impulso del direttore della DIA e scaturisce da un'attività investigativa della stessa DIA iniziata nel 2010, dal quale risulta la sproporzione fra l'elevato tenore di vita dell'imprenditore e l'esiguo reddito fiscalmente dichiarato. L'indagine ha mostrato un'attività di usura e ha fatto emergere le tante complicità di cui il soggetto poteva godere all'interno della criminalità ennese. Per questo è stato condannato in via definitiva nel 2022 dalla Corte di Cassazione. Il provvedimento di confisca, dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ha interessato l'intero capitale sociale e rilevanti quote di partecipazione in diverse società, tra le quali un rinomato bar e ristorante nel centro commerciale Outlet di Agira, in provincia di Enna, alcune imprese operanti nella produzione di calcestruzzo e la gestione di sale da gioco. Inoltre sono stati sequestrati anche 14 immobili, tra i quali una lussuosa villa con piscina a Nissoria, in provincia di Enna, diversi terreni di elevato valore economico nella zona commerciale di Catania e diversi rapporti bancari con polizze assicurative.